In un luogo appartato di una corsia, ho un forte bruciore allo stomaco che non passa con il solito antiacido. Vado al pronto soccorso di un ospedale romano, mi fanno molte analisi e mi trattengono in ospedale, prima in un reparto d'urgenza e poi in medicina seconda. Ho sempre nausea e mangio molto poco. Mi mettono in un luogo appartato di una corsia dove ogni giorno mi affiancano dei genti molto anziani che urlano e muoiono poco dopo. È l'anticamera della morte. Passo le notti con i cadaveri a fianco. Chiedo se possono rimuovere i cadaveri, mi rispondono che gli addetti sono disponibili solo la mattina. Dopo venti giorni di letto cammino a stento e mi mandano in una clinica di riabilitazione, l'unica disponibile per me, a 40 chilometri da Roma, dove rimango per un mese. Mio cugino decide di farmi visitare in un altro ospedale da un epatologo che mi toglie una semplice cistiacquea di 17 cm che mi copre il fegato. Due giorni dopo l'operazione esco dall'ospedale e sono libero. Perché tutto questo inferno? Commento. Perché nella condizione umana vige ampiamente l'imperfezione e quindi il dolore dato e ricevuto. Ma tu non a caso ti sei incarnato nella condizione umana.